Telecamere con intelligenza artificiale a ogni angolo, poliziotti in borghese 24 ore su 24 e controlli di vicinato per poter denunciare il proprio dirimpettaio tramite Whatsapp. Non si tratta di un distopico romanzo di George Orwell, ma del pacchetto sicurezza presentato dalla Lega al comune di Pescara. La Lega pone la sicurezza fra i primi punti della propria attività amministrativa. Oggi vogliamo dire alla città che cosa stiamo facendo, a che punto si trova quello che riteniamo essere il primo elemento per dare sicurezza ai nostri cittadini. Il primo elemento che noi riteniamo è il sistema di videosorveglianza. Poiché la percezione di insicurezza e la conseguente richiesta d'ordine sono sempre più elevate, la Lega intende reprimere la criminalità aumentando il numero dei vigili urbani ed equipaggiandoli con le controverse e pistole tese, definite strumenti di tortura da Amnesty International, ma anche potenziando il sistema di videosorveglianza. Tutte le telecamere che andremo a installare andranno posizionate, ognuno sul territorio, confluiranno in una room che posizioneremo all'interno della Polizia Municipale, dove lì ci sarà l'analisi video contestuale di tutte queste telecamere. Parliamo dei numeri importanti. Poi la nostra missione è quella di recuperare le telecamere esistenti che sono oltre 100, a fianco a queste telecamere che sono 100, installarne altre 250 e da lì partire per un sistema di controllo organico, dove tutti questi dati fanno sì che andranno in queste centrali, dove verranno analizzati. Inoltre nel pacchetto sicurezza della Lega sono previsti l'attuazione del DASP urbano, introdotto dal decreto Minniti, e gli sgomberi facilitati dal decreto sicurezza. Dopo le polemiche dei giorni scorsi tra il gruppo del Carroccio e il sindaco di Forza Italia, Carlo Masci, l'amministrazione si mostra di nuovo compatta e coesa. Il sindaco è d'accordissimo, anzi devo ringraziarlo perché mi sta molto vicino su questa tematica e mi sprona ad andare avanti. Le dico anche una cosa, questo è un progetto iniziale da un milione e mezzo, noi contiamo di metterci altre risorse, altre risorse. Il sindaco su questo è un precursore, ti posso assicurare, assolutamente.